Ciao a tutti amici YouTube e benvenuti in questo nuovissimo video. Era da tantissimo che non provavamo un paio di auricolari True Wireless Bluetooth e sono felicissimo di poter provare queste, di aver potuto provare anzi queste Technics AZ80. Auricolari top di gamma, prezzo abbastanza elevato, ma davvero Technics ha fatto un bellissimo passo avanti rispetto a tutti i predecessori. Ma prima di continuare nel video e scoprire come vanno queste AZ80 e chi dovrebbe acquistarle, vi ricordo che per supportarmi potete iscrivervi al canale in maniera totalmente gratuita in modo da non perdervi tutti i prossimi contenuti. Piccola nota, il link per scoprire il prezzo lo trovate qui sotto nella descrizione. Vediamo però cosa c'è all'interno della confezione e quali accessori Technics, tra virgolette, Panasonic, propone in abbinamento a questi magnifici auricolari. Questa è la confezione di vendita, quella che vi arriverà nel momento in cui le acquistate. All'interno ci sono ovviamente gli auricolari, ma anche ben sette gommini per poterle adattare alle vostre orecchie. Fate sempre attenzione a questa procedura, anche perché è possibile che dobbiate usare un gommino di misura diversa per ciascun orecchio, anche perché il nostro corpo è asimmetrico. Dopodiché abbiamo anche un manuale di istruzioni e garanzia, ovviamente un cavetto USB-C per la ricarica. Ma vi faccio vedere come Panasonic coccola noi giornalisti, perché sono arrivati anche tantissimi accessori. Prima di tutto questa è la confezione dedicata alla stampa. All'interno c'era anche questa pochette che risulta comoda per poter portare gli auricolari con sé senza rovinare la custodia e risulta comoda da agganciare per esempio allo zaino piuttosto che alla cinta dei pantaloni è anche questo caricatore wireless, perché sì, questi auricolari sono anche dotati di ricarica wireless. È comodissima per questa tipologia di accessori, perché questo lo mettete nella scrivania dove lavorate, poggiate gli auricolari e la custodia e li troverete sempre carichi quando ne avrete bisogno. All'interno non c'è nient'altro, però ci tenevo a farvela vedere. Mettiamo tutto da parte e concentriamoci però sugli auricolari. Come sono fatti? Beh, pesano 56 grammi, quindi davvero pochissimo, ovvero la custodia più gli auricolari pesano solamente 56 grammi. L'estetica è davvero minimale, c'è una confezione davvero ben rifinita con questa parte spazzolata nella parte superiore che ha un feedback quasi metallico e credo proprio che sia alluminio, con il logo Technics inciso a contrasto di colore champagne. Nella parte posteriore abbiamo la USB-C per la ricarica e all'interno ovviamente abbiamo gli auricolari che riportano le stesse caratteristiche della custodia, quindi plastica opaca per la parte laterale e parte, diciamo, satinata questa volta per la parte superiore. Ci sono tantissimi microfoni per quanto riguarda la riduzione del rumore, perché sì, queste cuffie sono dotate anche di cancellazione attiva del rumore. Tra l'altro vi faccio vedere come il posizionamento all'interno della custodia sia davvero molto semplice grazie a un potente magnete nella parte inferiore posizionato nelle cuffie. Custodia davvero ben fatta, pratica e la batteria integrata assicura ben 24 ore di riproduzione totale, per cui quando voi smettete di utilizzare gli auricolari e li inseriti all'interno, loro si ricaricano e la durata complessiva raggiunge le 24 ore. All'interno di ciascun auricolare invece c'è una batteria che permette di usarli per ben 7 ore consecutiva. Auricolari che sono particolarmente fatti bene e soprattutto che sono dotati di un nuovo design rispetto alle AZ40 che si chiama CochaFit, un design che permette di inserirle praticamente in questo modo. Le inserite all'interno delle orecchie e dopodiché fate una sorta di avvitamento. Vi posso assicurare che da qui non si muovono, vedete io agito la testa ma l'auricolare non si schioda. Sono certificati anche IPX, quindi sono impermeabili e resistenti al sudore, per cui le potete utilizzare in palestra, dell'utilizzo che io maggiormente ho fatto di questi auricolari. Inoltre grazie a Bluetooth 5.2 potete collegarli anche all'applicazione dedicata che si chiama Technics Audio e tramite l'applicazione potete personalizzarle un minimo, purtroppo non si possono personalizzare i comandi, però è possibile andare a definire l'equalizzazione, quindi decidere se impostare un profilo preimpostato oppure andarla a equalizzare come preferiamo e poi è possibile decidere se attivare la riduzione attiva del rumore e calibrarla a seconda del nostro udito e soprattutto possiamo anche attivare la modalità ambiente, quindi quella che ci permette di sentire suoni di sottofondo e quindi parlare o effettuare conversazioni o sentire annunci per esempio in metro o in stazione anche senza togliere le cuffie, funzione decisamente molto molto comoda. Dopodiché sempre tramite l'applicazione ma anche sui dispositivi Android e iOS senza applicazione possiamo monitorare la carica residua non solo di ciascun auricolare ma anche della custodia e questa secondo me è una delle più grosse novità e sicuramente più grosse caratteristiche utili di questi auricolari. Come funzionano i comandi touch? Con un singolo tap avviamo, stoppiamo la riproduzione musicale e dopodiché sono sdoppiati con volume e navigazione delle tracce per auricolare destro e sinistro. Questo cosa significa? Che con un doppio tap passiamo alla traccia successiva e con tre tap sull'auricolare destro passiamo alla traccia precedente, con due tap nell'auricolare sinistro diminuiamo il volume e con tre tap lo aumentiamo. Forse poteva essere implementato meglio ma poi con un tap prolungato possiamo abilitare anche l'assistente vocale integrato all'interno degli auricolari come ormai prassi nella maggior parte degli auricolari di questo tipo. Ma bando alle ciance come suonano queste Technics AZ-80? Davvero molto molto bene. L'audio è estremamente bilanciato, godibile, il volume non è altissimo ma è una caratteristica che hanno un po' tutti gli auricolari dotati di cancellazione attiva del rumore. Questo perché essendo che i rumori di fondo vengono eliminati non c'è bisogno di avere un volume estremamente alto, con un volume medio si ha già un'ottima acustica generale. Vi posso assicurare che i rumori di fondo io li ho usati in treno per un viaggio abbastanza lungo da Torino ad Aste e vi posso assicurare che ho viaggiato nel più totale comfort. Non c'era il problema di sentire le gallerie, non c'era il problema di sentire il brusio di fondo, insomma anche con bambini all'interno del vagone non ho avuto nessun tipo di problema e i rumori sono stati egregiamente eliminati e questo è uno dei più grossi pro. Solamente poche altre cuffie riescono ad avere una cancellazione attiva del rumore così bilanciata ed efficace. Dopodiché però la qualità audio è comunque estremamente godibile. Non c'è una preponderanza di tonalità alte, basse o medie ma è tutto estremamente equilibrato. Certo possiamo andarla a personalizzare con l'equalizzazione ma la firma Technics si sente con un audio estremamente godibile con qualsiasi tipo di traccia musicale. Io in particolare ascolto dal heavy metal all'EDM e vi posso assicurare che tutte le mie tracce preferite sono state riprodotte in maniera davvero eccezionale. Abbiamo tra l'altro grazie al chip e bluetooth la possibilità di connetterle a tre dispositivi simultaneamente quindi potete collegarle al vostro tablet, al vostro smartphone e al vostro pc e poterle utilizzare senza alcun problema. Le utilizzate con il vostro pc, se ricevete una chiamata al vostro cellulare potete utilizzarle, se successivamente avete un appuntamento su zoom e volete farlo con il vostro tablet non c'è bisogno di stare lì a connettere e disconnettere tutti gli auricolari. C'è solo forse un punto interrogativo ovvero appunto le chiamate. I microfoni funzionano senza ombra di dubbio bene, i nostri interlocutori ci sentono piuttosto bene, tuttavia c'è una nota metallica che si accompagna alla nostra voce. Nonostante la possibilità di calibrare questa funzione tramite l'applicazione non sono riuscito a trovare un setting che consenta poi di eliminare del tutto questa caratteristica. Insomma 299 euro sono sicuramente tantissimi però siamo di fronte a un paio di auricolari che tra l'altro non hanno alcun ritardo tra la riproduzione e quello che vedete. Quindi anche per guardare video, anche per montare video sono assolutamente perfette. Vi lascio il link come al solito qui sotto in descrizione, fatemi sapere voi cosa ne pensate se avete mai avuto modo di provare auricolari Technics, per me promosse alla grande. Tra l'altro c'è anche un piccolo sensore qui nella parte interna che permette di mettere in pausa la riproduzione musicale non appena togliete le cuffie. Insomma, cosa volete di più? Vi lascio tutto qui sotto, se avete domande fatemelo nei commenti e noi come al solito ci vediamo al prossimo video. Ciao! Grazie a tutti!